Ciao ragazzi, questo è un nuovo video, io sono andato a GameZo7, c'è qua il nuovo video di Fortnite Io volevo annunciare una nuova cosa che appena ho fatto ora Siterrando, allora ho fatto un mio team, RG07, sarebbe rannato a GameZo7, penso che avete capito E' il team che giocherò con gli iscritti, con anche gli altri miei compagni Se volete partecipare, per ora sono disponibili o due o tre di iscrizioni, subito Quindi il primo che me lo chiede su Youtube o anche dei miei amici, vi dovete fare il provino Una volta raggiunti 5 partecipanti e 4 partecipanti, io penso che ero 5 Dovete fare su richiesta, cioè dovete fare il provino Quindi io in base alle persone più forti e meno forti, in base ai miei amici e ai miei non amici Niente voi, non andami qua la lista Deciderò il team Team principale e le sostituzioni Se voi aspettatevi a scrivermi a commenti Qualsiasi video Qualsiasi video Volevo partecipare a come vuole fare Quale nome, quale nickname, quale vostro nickname Seguitemi su Instagram C'è il video Ok, andiamo Andiamo in questo palazzo, guarda, ma diventato C'è un video dove sta scritto un brevissimo video di 34 secondi dove sta scritto C'è dove faccio vedere il mio canale Instagram, se volete contattare e scrivere il meglio Se lo scrivete il vostro contatto di Non numero Nostro contatto sulla play, il nostro nickname, io vi contatto tramite messaggi là E ho detto tutto, spero di aver detto tutto E comunque Entrate in team Il provino, ripeto, per i primi giorni, anche se stiamo in 5 Sarà una banalità oppure non ci sarà proprio Perché vi preoccupate Quindi se vi affrettate il provino Ma tanto che ci sarà Non c'è niente Vabbè, io ho due pistola Il provino sarà uno schifo di provino Diciamo, diciamo, così Mi ha trovato niente Ma Oh 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 Bello Eppure Ho fatto il Mamma mia Un Bello Ciao Vieni da me Sì 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 Sono proprio killer Ti danno gratis Ok 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 Ma Ma Sì Sì Mi devo aggiungere un'altra Mi devo aggiungere un'altra Mi devo aggiungere un'altra Mi devo aggiungere un'altra Oh Che sotto eh Ah Ah Che sotto eh Ah 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 Che male Quello Eh Passi No Mi Mi Hai Stato In Tu Cavolo Luca, rivelate Luca, Luca amata dg che mi lascia fuori la vita e tablo ti lascio pure il p90 mi taglia e tablo è stato blu ti chiedo solo quello basta stop italia tablo è stato blu madonna sa stavessimo è visto io l'ho sempre fatto valutata agli altri che poi ci riuscire io vorrei fare la notte casca no no perché le missa questa è il tema lo prendo questo va un po a niente ciò può fare la notte attento così è chiuso chiedi che di sotto che di sotto c'è colpi assalto c'è un 5 poi al caricatore santo se fuori al caricatore non lo vedo questa è una cosa non molto positivo ok ha visto che costruiva anche a che lo risentirà la relazione sotto la reloce sotto l'orologio sotto non sto a sesso forte headshot e 33 sì ma faccio un po di vita per la valore io c'ho un conto intospettivo non erano due c'era un altro no ma ora con il nome cosci'aveva rimasto 10 di vita fra no 10 di vita che non pensavo che avevo due di vita materiali non fa manca io così non c'erano benissimo mamma mia mamma mia mangiata vabbè continuiamo il video cioè non lo voglio stoppare pure perché è bellissime no vabbè no non c'è ci sta però capì c'è un'et in più eravamo salvi materiale in più continuo eravamo salvi 1 la sfiga di tutte queste cose in c bene ma lo so c'è vero 3 sfiga eh? eh lo so quello dico devo fare questa missione di carco e non so questo veramente su istagno c'è un follower che mi che veramente mi ha messo sta questa cosa no però io non c'ho l'account privato su istagno solo che da ora ho creato un account da un mesetto neanche un account per gli iscritti pubblico ovviamente poi ce l'ho sempre avuto privato ma da che so ah tu mi segui su youtube si eh? si fra da un bot è troppo bello sto bollo mi devo chiedere le cose fuori dal video che non la finisco eh quanto ci metto a caricare? spazzolata forse uno spazzo anzi qua ci chiamo c'era brutto dai se ci riusciamo il video no 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 andiamo qua perchè se moriamo subito il video anzi è meglio no per il video se noi moriamo ci dobbiamo giocare va benissimo pure per il video quindi vai ok qui ci vanno almeno per qui lo so possibilmente vicini Luca io atterro sopra la nave no non atterro più sopra la nave ah no no è una portata eeeh io sono conto c'è un'arma da me ti entra un po' di colpi che è un po' di colpi che è un po' di colpi no 10 di vita 10 di vita 10 di vita fidati curami 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 c'è 10 di vita Luca Luca sarà me no 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 però non hai capito c'è una di vita no non ci credo vabbè perchè di eh 32 vabbè facciamo ancora un'altra facciamo ancora un'altra facciamo un video un pochino a lungo ripetiti allora raga vi ricordo di seguire su youtube è nato gamer tira basso 07 di andare facciamo ancora in due poi 304 messaggi non è vero questo non significa niente ma sta sfida delle 200 stelle alla fine è una passata assurda io non c'era purtroppo allora poi no no ma c'è ancora no c'è ancora veramente dove si si eh ma non te lo dai io l'ho fatto eh no perchè l'hanno tolto eh comunque no no c'è ancora mi fa vedere 200 stelle le nato gamer tira basso 07 tutto attaccato non come sta scritto youtube tutto piccolo tutto attaccato due trattini no un trattino vabbè cavolo due trattini basso 07 no un trattino no su youtube su instagram mi sa due eh vedete questa vabbè la foto del mio profilo però di 30 anni fa infatti aveva ancora non mi ricordo ancora quanti iscritti aveva però comunque pochi molto pochi eeeh vabbè 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 pinnacoli seeeh no aspetto è un po' una parte non c'è un bel po' ah ah embargo ok andiamo sulla montagna magari ora sulla montagna no 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 vabbè 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 no tutti questa cosa cosa no ormai sono troppo basso fa niente sono che ci riesce una prende ok non è andata giù eh no vetture vai tu giù ma c'è il pompa del nerno verde l'ho preso ok qua c'è un aspetto per te qua c'è un aspetto per te colpi oh madame ok no non scendere subito sarà il ciuccio ci sono sei colpi blu bellissima qua solo c'è una pistola se vuoi no no vabbè vabbè io non te la dava mai la seconda però se non trovo c'è un no che stanno di sovrrucco giugno quindi facciamo avviamo no ma allora non sono venuti più ok stanno venendo stanno venendo stanno venendo stanno venendo quando vuoi ti romportabile quando vuoi ti romportate di taglietta ce l'hai colpi di taglietta fuori sì sì c'è la 66 ti romportabile che dici oh no 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 non può essere vedi ci saniamo che se l'a disparity quando abbiamo con un passivo no Block ho vuoi 来 il grosso giù 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 c'è giù scendì giù te toggiti riparo riparo fermo fermo lo sapevi sto modifire però ci andiamo te lo dico ma se ci si aspetta una cosa capito dove sta fra? capito gravo gravo ma sta grato se sanno l'ho visto ho lasciato uno scarro ho preso io se mi riesco a fare anche il medico gg no vai modifica un momento lo fai modifica un ottimo tira il portatelo e fuoco 2 no ce la fai ma che c'è l'area non lo so ho visto ok fra la lascia di qualcosa c'è otto munizioni del pompa e 30 munizioni un'altraietta non so veramente cosa desti ok fra c'è una roba buona per te no ti do colpivo un padre se vuoi ce l'ho 15 te lo do quattro vieni anzi ce l'ho 9 ma vai a morire mortecci tua poverata fra 80 di vero non mi toglie l'ho tanto tutto il vero scarro è notato 170 a 170 vabbè non fa niente aspetta da un pochino aspetta tieni 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 no non voglio spiegare coltodominolci ma è bene però questa partia no tanto se lì spieghi non fa niente no poverata oh ma lì nani da un'idea che ammazzi sicciccio il bimbo le pare un po di colpi per avere lo scelto però perché è stato intero per lo scelta vale non mi 1 cosa tra così al minuto ai Non te lo devi prendere quella pompa la No il grosso caldo no proprio che sto il La pompa del nonno verde Ma cosa? No anzi hai ragione E anche la doppietta ti piace? La doppietta se mi piace però non è il grosso E quindi che non ti vuole andare a niente? Non mi sono preso il caldo Ah beh se c'è il caldo Beh due scale a due calibri O anche una più novanti una se volpì C'è un altro cubo C'è un altro cubo Vabbè Io sono miseria Sono scivite e trovi una mela A proposito se vengono mela Ci mancano 5 di HP Così poi divento full Allora e comincio a sparare al cubo Che poi io tanto devo fare anche distruggere o distruggere le fiere E i bruti Distruggire le fiere del cubo e distruggere i bruti Il cubo Abra uno scudone da me Te lo prendo e te lo porto Ma pure da me c'è uno scudone Ma troppo per il ciccione Granate sono mia Granate sono guante Ho fatto dopo Da quanto capite che ci si chiamano brutti Eh No giusto per l'informazione Vabbè piccolo piccolo Bello sta carappa Che bella è la carappa Me lo vengo al volo Tra me la faccio per 5 di vita Oh bordo Oh bordo Oh bordo Oh no Andrò è qui Io distruggavo un po' il cubo eh C'è uno fino a vanta perché Ma che si Ok 35 di scuola E' uno solo vero Spera di si No c'è un altro che sta arrivando da ieri Non ce ne faccio Eh non ce ne faccio Eh non ce ne faccio Con tu Eh si un altro Allora all'altro Allora all'altro Le ho fatto E' bianco Un altro bianco Eh bra cavolo eh Non mi finire Non mi finire dai Ma perché Ma perché Che mi finisci Che cavolo di La faccia La tua guarda Troppo bellissimo Rutta Sperto Wow Di vicino La collina Contosso Ma vuoi morire Se sei vita bianca Tu sei Ma vuoi morire Che è Ah beh Bella Spera che questo video Vi avessi fatto Like Scuettami Grazie a tutti Ciao Ciao Oh